Endless Love, anticipazioni 22 quinti, Asu intercetta le foto del bacio di Kosquogliu e Zeynep. Zeynep tremerà quando vedrà che Asu è in possesso delle foto del suo bacio con Emir in barca nella puntata di Endless Love di mercoledì 22 maggio. Le anticipazioni spiegano che Asu riuscirà ad intercettare il pacchetto indirizzato a Kemal e troverà le foto di Zeynep in compagnia dell'imprenditore. Tra Zeynep e la sorella di Kemal ci sarà un acceso confronto ed entrambe si impegneranno per evitare ulteriori mosse di Emir ai danni di Kemal. Emir invierà un pacco a Kemal Asu si troverà in ufficio quando il corriere chiederà di Kemal per consegnargli un pacco importante. La ragazza prenderà la busta al posto di Soidere, assicurando al corriere che non lo avrebbe aperto, ma non sarà così. Appena resterà da sola, Asu aprirà il pacco e scoprirà che contiene le foto di Emir e Zeynep che si baciano sulla barca. La donna sarà sconvolta, ma senza perdere il controllo prenderà le immagini e le porterà direttamente da Zeynep, a Villa Setzen. Asu telefonerà alla sorella di Kemal e le chiederà di uscire subito perché deve parlarle di una questione urgente. Zeynep raggiungerà Asu appena fuori dalla villa e ascolterà i suoi rimproveri, le nozze con Ozana sono solo un gioco, giusto? Zeynep non riuscirà a capire il perché delle insinuazioni di Asu che a quel punto le lancerà addosso le foto di lei ed Emir. E fare questo? Non posso crederlo Zeynep, dirà delusa Asu avvisando che quelle foto erano indirizzate a Kemal. La paura di Zeynep Asu sapere dell'esistenza di quelle foto farà tremare Zeynep che spiegherà ad Asu di essere stata raggirata da Emir. Non avresti mai dovuto sposare Ozan, dirà la migliore amica di Kemal, mentre Zeynep sarà molto preoccupata per quello che potrebbe fare ancora Emir. La giovane sposa prometterà che farà di tutto per fermare il perfido imprenditore ed impedirgli di ferire Kemal. Quando tornerà a casa, Zeynep proporrà a Ozan di annunciare pubblicamente il loro matrimonio. Asu, invece, si dirigerà da Emir e gli chiederà di lasciare in pace Kemal. Il piano di Emir per ferire Kemal usando sua sorella nelle puntate precedenti, Emir ha teso una trappola a Zeynep. Dopo averla corteggiata a lungo, l'imprenditore ha portato la ragazza a fare un giro in barca. Emir si è messo d'accordo con il capitano per scattare una foto del momento del bacio. In seguito la situazione tra Emir e Zeynep è precipitata, perché dopo aver ottenuto le immagini e dopo aver sedotto la ragazza, Zeynep non si è arresa e ha deciso che si sarebbe vendicata presto di Emir. L'imprenditore l'ha cacciata con disprezzo, umilandola. La sua prima mossa è stata arrivare alle nozze con Ozan ed entrare di diritto a Villa Sezen.